Ciao a tutti, io sono Mirko di Gruppo Carmeli ed oggi scopriamo Townstar, il nuovo multivan di casa Nissan che troviamo nella variante N-Connecta per il trasporto per so. Nissan Townstar nasce come soluzione comoda, versatile e spaziosa garantendo comfort ed eleganza. È l'ideale per i vostri spostamenti in città, ma anche per le gita fuoriporta. È lungo quasi 4,5 metri e largo 2, alto 1,80 metri con un passo di 271 centimetri. Ha un bagagliaio da 775 litri che possono diventare ben 3.500 con tutti i sedili abbassati. Sotto il cofano troviamo un motore Euro 6 a benzina da 1.300 centimetri cubici capace di sviluppare 130 cavalli a 5.000 giri. Infine troviamo un cambio manuale a 6 rapporti e la trazione anteriore. Davanti troviamo un paraurti molto espressivo, con un disegno molto carino per l'alloggio di fiendinebbia, un gruppo ottico con luci di urne a LED, questa griglia generosa e di sensori di parcheggio. Spostandoci a fianco del nostro van troviamo i portelloni scorrevoli, massicci e con il vetro incorporato. Devo dire che è veramente comodo entrare da queste porte scorrevoli ed hanno addirittura i vetri apribili elettronicamente. Veniamo ora al posteriore. Il portellone è veramente grande. In questo modo potete caricare il vostro bagagliaio comodamente e con facilità. Possiamo abbassare i sedili posteriori per ricavare ancora più spazio nel portobagagli, per un massimo di 3.500 litri. Passiamo ora agli interni, dai quali sono restato veramente stupito. I sedili infatti sono davvero molto, molto belli e ben rifiniti. Sono in pelle e con la parte superiore in tessuto. Hanno inoltre queste cuciture blu in risalto. Un ottimo lavoro ed un risultato molto pagante per la vista e per il tatto. Le porte anteriori, così come le porte scorrevoli posteriori, sono massicce e troviamo un'imbottitura che riprende il tessuto presente nella parte superiore dei sedili. Il volante lo trovo ben fatto e con un suo carattere, con un design moderno. Troviamo poi un climatizzatore bi-zona, uno schermo touch da 8 pollici con Apple CarPlay, Android Auto, il navigatore, l'avvisatore di accesso di velocità ed il riconoscimento dei segnali stradali. La zona dei sedili posteriori è ottima. Come potete vedere, di spazio ce n'è in abbondanza. La comodità è garantita. Cosa ne penso al nuovo Nissan Townstar? È esteticamente molto carino, molto spazioso e ben rifinito. Il compagno ideale per i viaggi con la vostra famiglia o con i vostri amici. Lo potete guardare sul nostro sito www.gruppocarmeli.com o lo potete venire a vedere e toccare con mano nei concessionari di Gruppo Carmeli dove troverete uno staff esperto per i veicoli commerciali. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo al prossimo. Ciao!